Bentornato e bentornata sul canale YouTube. Nel video di oggi andiamo in profondità di quello che è camminare sulle mani. Innanzitutto è importantissimo capire che camminare sulle mani è meccanicamente più semplice rispetto a stare in verticale. Tenere la verticale per 30 secondi, un minuto in modo solido a comando quando vuoi da adulto è sicuramente più complicato e alla base ci sono due meccanismi che sono quasi l'opposto nel senso che la verticale sulle mani tenuta richiede che tu riesca a mantenere il centro di massa quindi la parte più pesante del tuo corpo ovvero il bacino sopra la base di supporto che sono le mani e fare quei micro aggiustamenti per far sì che questo continua ad accadere nel tempo quindi se stai per caso cadendo oltre oppure sei entrato scarso quindi non abbastanza sopra devi essere in grado di aggiustare la posizione con le mani come se fossero dei piedi. Deve diventare naturale tenere l'equilibrio sulle mani come quando stai a tenere l'equilibrio nella posizione in piedi. Mentre quando parliamo di camminare sulle mani è esattamente l'opposto nel senso che tu devi tenere le mani sotto la base di supporto che sarà di base leggermente protratta in avanti per far creare il movimento. Tu immagina che vuoi iniziare a camminare nella vita tutti i giorni sui piedi e per farlo solitamente non siamo abituati a muovere direttamente il piede e iniziare il movimento ma a far cadere leggermente la testa in avanti in modo quasi impercettibile e questo genera il primo impulso alla camminata. Allo stesso modo avviene lo stesso meccanismo quando siamo sulle mani solo che invece che la testa lo facciamo con il bacino che sarà leggermente oltre le mani questo genera il primo movimento e quindi poi si tratterà di tenere la base di supporto sotto al centro di massa quindi esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto nella verticale tenuta. Quindi questo è importante da sapere è importante da sapere anche che imparare la verticale statica non ti insegnerà necessariamente a camminare e imparare a camminare sulle mani non ti insegnerà necessariamente a tenere la verticale statica. Il mio consiglio ovviamente un po' l'avrai capito il mio approccio è quello di andare a sviluppare entrambe e magari in periodi differenti perché è sigo e impararle proprio il processo di apprendimento e soprattutto il tuo vocabolario di movimento sarà molto più ampio e quindi tu più libero di scegliere cosa utilizzare. Molto bene adesso andiamo a vedere i tre esercizi che ho trovato essere più efficienti per andare a colmare i tre bisogni più grandi quando vuoi imparare a camminare sulle mani. Iniziamo! Se vuoi imparare un'infinità di modi di muoverti e quindi sviluppare la tua libertà di movimento da adulto anche se parti da zero ti invito a scorrere qui sotto la descrizione e cercare più informazioni su quelli che sono i nostri percorsi oppure andare direttamente sul nostro sito www.bovinside.it Mi raccomando lascia anche un like e iscriviti al canale perché ogni settimana escono nuovi tutorial. Continuiamo! Fantastico! Possiamo iniziare con il primo esercizio che lavora sul primo concetto da fare tuo da incorporare se vuoi imparare a camminare sulle mani oppure diventare più efficiente a farlo. Userò spesso delle metafore con la camminata normale perché trovo che sia veramente intuitivo. Allora noi potremmo camminare essenzialmente in due modi quando siamo nella vita di tutti i giorni. Uno è questo. Immagina che non ci sia troppa consapevolezza, faccio rumore e semplicemente penso di andare dritto per dritto. L'altra possibilità che abbiamo molto più intelligente è quella di di shiftare lateralmente il peso del bacino, cosa che di base accade naturalmente anche se in alcuni casi lo perdiamo. Quindi ti invito anche a diventarne consapevole. Cosa succede in questo caso? Che se io shifto, sposto il bacino sul piede sinistro leggermente il piede destro sarà leggero e impiegherò molto meno sforzo a muovere il piede destro in avanti. Quindi poi io shifto, 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 shifto. Questo è dato dalla mia libertà di movimento nel bacino. Quindi se avrò tante tensioni in questa area sarò più portato a fare la prima tipologia di camminata che molto spesso possiamo trovare negli anziani oppure chi ha avuto dei problemi motori o chi è appunto molto rigido. Lo stesso concetto lo ritroviamo sulle mani. Solitamente la camminata sulle mani, che sicuramente se sei qui all'interno di questo video c'hai un po' presente questa tipologia, avviene in questo modo. Quindi mi butto, è un po' come la prima camminata sui piedi, faccio un rumore e vado dritto per dritto. Solitamente funziona proprio in questo modo. L'altra possibilità che ho è ricordarmi lo shift laterale. Vi consiglio di iniziare a farlo lentamente, magari facendo due, tre, quattro passi alla volta. Quello che succede è che shifto il bacino sulla mano destra leggermente qualche chilo e poi sulla mano sinistra. Quindi c'è quell'oscillazione laterale che mi permette di muovere la mano in avanti in modo molto più efficiente, spendendo molto meno energetica. Il secondo concetto per imparare o migliorare la camminata sulle mani è il ritmo. Infatti tenere un ritmo dispari, dove prima vai veloce e poi vai lento, sicuramente ti farà spendere più energia. Mentre un ritmo pari, quindi uno, due, tre, quattro, sarà molto più efficiente. Immagino nella camminata tutti i giorni, se tu dovessi camminare lento e poi un po' veloce, poi lento e poi un po' veloce. Insomma, non è che funziona benissimo. Mentre se io riesco a tenere un ritmo costante, ripeto, nella quotidianità, è sicuramente meno dispendioso, che è quello che cerchiamo anche nella camminata. Quindi facciamo un esempio, cercherò di essere più pari possibile. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, neanche, cinque, quattore, cinquindici. Allora, mi è andata di culo perché solitamente su questo non sono ancora bravissimo, ci sto lavorando attualmente, però hai visto? Questo vuol dire essere pari, invece vediamo cosa vuol dire essere un pochino dispari. veloce, lento, veloce, lento e così via. Quindi questo ritmo sicuramente è molto più dispendioso. Non so come sia la mia faccia adesso, probabilmente è un po' rossa, però continuiamo. Il terzo concetto del quale fare esperienza e da sviluppare per migliorare la tua camminata è braccia piegate versus braccia tese. Le braccia piegate è molto meno efficiente perché andrai a spendere la forza delle braccia che non è così ottimale, in realtà farai un sacco di fatica e non potrai sostenere a lungo la camminata. Viceversa, se tu vai a bloccare i gomiti più possibile, sarai costretto a utilizzare la forza della spalla che è molto più forte e quindi tutto funzionerà al meglio. Quindi andiamo a vedere come potrebbe funzionare con le braccia più tese possibile e uso la potenza delle spalle versus braccia piegate. Lo capisci da te che sto facendo una grande, grande, grande fatica. Quindi il terzo concetto è braccia tese molto meglio di braccia piegate. Molto bene, quindi riassumiamo velocemente quello che hai visto in questo video. Sicuramente hai capito che tenere la verticale e camminare sulle mani sono due abilità diverse. Se impari una non vuol dire che sai fare l'altra e viceversa. Dopodiché abbiamo visto tre esercizi, tre concetti molto importanti da sviluppare per camminare sulle mani in modo efficiente. Il primo che abbiamo visto è lo shift laterale, quindi non pensare solo di andare avanti come una valanga, ma pensa di spostare il tuo centro di massa, il tuo bacino, un po' a destra, un po' a sinistra, andando ad alleggerire prima un braccio e poi l'altro. Il secondo concetto che abbiamo visto è il ritmo. Cerca di muoverti in modo più pari possibile, quindi uno, due, tre, quattro e non alternare ritmi differenti. Questo ti farà disperdere tanta energia. Infine, il terzo concetto che abbiamo visto è che braccia piegate ti farà spendere molto più energia rispetto che a braccia tese, perché grazie alle braccia tese non utilizzi più la forza delle braccia che è limitata in questo senso, ma utilizzerai la forza delle spalle. Molto bene, per questo video è tutto, ti invito a lasciare un like al video e iscriviti al canale per supportare il nostro lavoro che in realtà è diventato una missione, quella di divulgare più possibile la cultura di movimento in Italia. E se vuoi avere anche più informazioni sui nostri percorsi per adulti, per diventare libero di muoverti, anche se parti da zero, ti invito ad andare sul sito www.moominside.it e noi ci vediamo alla prossima settimana. Ti abbraccio! Ciao!